Non ti voglio mica uccidere con le volte, ma ti pare, ma ti pare, ma io, no, no, no Ninja non potete capire cosa ho trovato, siamo qui nella pizzeria ufficiale di Five Night at Friendly Sì, esatto, proprio lei, perché? Perché sono pazzo Oggi andremo ad esplorare tutta questa pizzeria, ma voi mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportarmi Perché mi sto mettendo contro degli animatronici, quindi insomma, degli animatronici, anzi, maledetti Ed è uscito anche il film al cinema, voi l'avete visto, ditemi com'è qui sotto nei commenti se l'avete visto e se l'andrete a vedere Io l'ho già visto e vi dico che è veramente bello Allora, io direi di andare a esplorare subito nella pizzeria e non perdere altro tempo Allora, io intanto mi preparo con una pistola Ecco qua, la lì Che ci fai qui? Guarda questo Allora, allora Ok, ok E tu La musica per revolver Comunque ti faccio vedere che io ho un'abilità super mega segreta Questa è proprio lei che ti permetterà di scappare ai tuoi attacchi La V Perché con la V io posso volare per tutta la città Ne ha 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 per tutta la pizzeria O meglio Non lo so, è strapagata Guarda, ma noi vabbiamo Guardalo, po 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 Si E canta, canta, canta finché puoi No Vedete un po' le follie di Tiju E invece di un normale animatronix Mi ritrovo Idu Idu, ma ma Ti sai qualcosa di questi imbecini che camminano qui dietro? Cioè, dimmelo Idu, se no, eh Sono tuoi? Sono i miei liati? Si, perché io li voglio uccidere Aia No, non ho capito Aiaiaiaiaiai Ma Sono praticamente invato da questi robbi Tipo Jack the Killer con una busta in testa Tu ne sai qualcosa per caso? Così, eh Ti hanno per un amico Cos'è sta roba? Hai fatto esplodere una bomba nucleare giga brutta Ma Cos'è? Un defense the tower? Un defense the evil? Toro, 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 toro Ma no, no La pizzeria è invasa da questi stupidi killer Aia Aia Allora, io sto infacendo Io sto infacendo Abbiamo un problema Abbiamo un grosso problema Ci sono praticamente dei killer infazziti che stanno girando per la pizzeria di Fnaf E tutto strabuggato Mamma mia Arrhaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia questa associazione a delinquere di Jeff the Killer perché veramente io non li sopporto quindi direi di allearci per non mettere le vende per distruggere questi Jeff the Killer sulle distruggere allora calmiamoci anche se la parola calma in questo canale non significa niente allora io direi di andare avanti e cercare di ammazzare il casino che è il comune sono il cubo queste Jeff the Killer non ti azzardare venire da me non ti azzardare ma non ti azzardare fermo non si sono Jeff the Killer per me perché sono matto ok e quanto qua sembra che c'hanno un sacchetto del volo in testa non possono essere zombie ti prego allora io direi di entrare qua narianna c'è il P90 c'è il P90 io quindi sono pronto ad ogni inconveniente allora è questa? si è questa quella la tua? si guarda è vero? non ti azzardare nulla nulla vero? guarda guarda non ti azzardare nulla ecco vedi vedi che però mi stai facendo qualcosa non mi devo regola numero uno mai fidarsi degli idu ma non ti azzardare il capello mai fidarsi degli idu regola numero uno ragazzi ricordatevi ho sempre una vita mi raccomando eh una lecce di vita proprio da da non so chi guarda 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 aia no aia che è successo? non sono assolutamente caduto come quei cretini di GFK no ma ti pare ma che ridere guarda che ridere no 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 abbiamo dei soldati super mega indemoniati che ci vogliono aia faccio pure io super mega ti prego ecco un'altra frase da digi uman set official mai fidarsi dei soldati indemoniati questi push ma erano le si ma fanno schifo aia ah ma loro sparano proprio forte eh si ma fanno schifo guarda ma guarda ma sono imbattibili i soldati che pezzi ma te ma spanno tipo a 7 km di stazio è veramente manco di immagini cioè una cosa veramente ma io mi dico l'assurdo allora dobbiamo allearci idu stanno a sentire dobbiamo allearci contro questi super mega soldati schifosi stupiti da 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 ne ho ciso uno ok io ci no 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 è pieno qua è pieno è pieno è pieno è pieno è pieno ragazzi sono pieni di soldati che ci vogliono praticamente morti quindi noi dobbiamo fare attenzione perchè la pizzeria non ha solo gli animatronics infestati evidentemente ma anche questi stupidi soldati che non so se i duas o no allora come sei morto? non mi è chiuscito allora dove sei? e tu lea va bene è rimasto un ultimo soldato i due è morto vieni 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 facciamo la let russa primo colpo non è andato secondo colpo è andato guarda che peccato i due che peccato allora dove sei? ok allora posso rearmi no non è avvenuto ma non è in basso il nostro mondo da jeff the killer zelli non gli esci brutti schifosi si evidentemente si vede che non so cosa jeff the killer in realtà lo so ma chiamo i mostri come mi pare a me allora si però se li hai messi allo spawn io credo che voi qua non ci uscevi già questa tizzeria è un manicomio guarda come corrono no 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 ragazzi e poi si corrono questi aschi diciamo nella terra che sono veramente una cosa stagliosissima quindi direi di stare attento a questi mostri ok quindi devo aggiungere una nuova frase al mio mindset mai svidarsi e gli zombie maniaci che sputano aschi mi sembra giusto ti sembra giusto però dai qua oh ma qui si picchiano si ma qui si picchiano proprio male ahia 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 ah fermi fermi tutti ok 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 allora allora oh no 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 mi stanno raggiungendo mi stanno raggiungendo anche qui indietro ragazzi io non so veramente più che fare ahia aiuto ahia 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 ok 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 sto combattendo na 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 ok sto combattendo tu 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 ahia me hanno uscito probabilmente dopo questo video mi hanno uscito male vabbè si lo so è tutto strano ahia ahia allora io entro in pizzeria per non sapere nella giornata di scrivere infatti non so nella giornata di scrivere sono caduto bene ahia allora dobbiamo farlo ora incredibile quando ci sono questi zombie per entrare in pizzeria adios ok allora siamo dentro la pizzeria impistata di Firelight at Freddy o almeno solo perchè io li sto incazzando con quegli zombie ci sei? fermo stavolando no 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 tanto qua c'è questo coso dove loro cadranno 100% ahia no edu mi stai tradendo non ci posso credere ok no invece è spassato ok hanno superato la cosa brutta non avrei arrivato da incontri non avrei arrivato da incontri mi è arrivato da incontri mi è arrivato da incontri sono più intelligente di quello che pensavo sti zombie eh sono più intelligenti eh eh lo so lo so credo che l'abbiamo uccise tutti per fortuna ah fermo allora io mi godo un po' di relax davanti al fuoco fermo ahia no 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 guarda ripeto con il fucile da caccia adesso su su fucile da caccia si si sono un pazzo sto invitando la canzone anche per il fucile da caccia va bene lo stesso ah cioè praticamente sono nelle gabbie infestate da questi stupidi zombie ahia no idu abbiamo un grosso problema abbiamo un grosso problema abbiamo un grossissimo problema idu devi correre idu devi correre ci sono delle gabbie piene di zombie idu devi correre la gamba malissima errimo lo so il bello di questo gioco è che è tutto pazzo allora andiamo avanti così ok pacchi 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 addio amici addio ma vi do il salutino ultimo tanto sto volando mi finite prendere na 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 si ho visto cose lo so anch'io l'ho viste cose aia aia oh mi prendono anche il volo mi prendono anche il volo non ci posso credere a te come quello non lo so non lo so ciao ciao